Civil Week 2024 ci troviamo a Vimodrone in compagnia dell'Associazione Progetto C19. Buongiorno, sono Carola Moretti, Presidente dell'Associazione Progetto C19. Sono molto felice di essere qua oggi con questi bimbi meravigliosi che sono stati veramente fantastici. Abbiamo con Patrizia Romagnolo. Buongiorno, sono Patrizia Romagnolo, sono un'avvocata di professione ma istruttrice nazionale d'arrampicata da 25 anni. Adoro arrampicare, adoro insegnare ad arrampicare e sono immensamente grata a Civil Week per aver ideato la Costituzione come tema fondativo e alla collega carissima Carola con cui amo collaborare e con la quale abbiamo pensato di mettere insieme con l'Associazione C19. questo pazzo colluvio tra la Costituzione e l'arrampicata. Cosa avete organizzato per noi oggi? Vediamo alle nostre spalle dei bambini che si stanno arrampicando. La prima domanda è un po' che cosa ci fanno due avvocati davanti a una palestra di arrampicata. Ecco, questa è un po' la domanda. E cosa c'entra tutto questo con la Costituzione? Però appunto con Patrizia è stata un'idea così che abbiamo nata da Patrizia che poi noi abbiamo raccolto immediatamente perché ogni sfida fa per noi. L'idea è proprio, c'è partita dal titolo di questa Civil Week, la Costituzione siamo noi. E quindi l'idea di portare la Costituzione nella vita di questi bambini su una parete di arrampicata. E quindi abbiamo lavorato insieme ai bimbi su quattro parole fondamentali per la Costituzione, solidarietà, uguaglianza, responsabilità e libertà. E quindi abbiamo lavorato con i bimbi cercando di contestualizzare queste parole partendo dall'arrampicata. E quindi Patrizia e due fantastici arrampicatori che sono saliti hanno fatto vedere e Patrizia ha ripercorso questi concetti mentre loro salivano e li abbiamo poi riportati agli articoli della Costituzione. E' stato veramente bello perché i bambini hanno partecipato con entusiasmo non solo adesso quando li vedete ma anche nel momento del laboratorio e nel momento del parlare e del disegnare. Grazie mille, allora buona Civil Week! Possiamo ringraziare solo ancora il CAI di Vimodrone che ha messo a disposizione non solo questo spazio ma anche attraverso il Presidente e alcuni suoi membri ha messo a disposizione tutti gli imbraghi per i bambini tutto il materiale che vedete in giro tranne le cose della C19 e che rispondono sempre, sempre ogni volta che ci viene in mente di fare qualche cosa per l'arrampicata loro dicono sempre di sì ed è secondo me un messaggio meraviglioso perché consente a chi non conosce niente di arrampicata di avvicinarsi in sicurezza. Allora grazie anche al CAI di Vimodrone!